I pazienti ricoverati sono sotto controllo, non sono sicuramente sotto cura, qualcuno in terapia intensiva, però oggi le situazioni sono stabili, sotto controllo e non ci risulta che le cose stiano andando male per loro. Per quanto riguarda la situazione si confermano sempre i tre cluster, ci sono stati altri due casi, uno di Limena e uno di Mestre, che stiamo facendo un'indagine epidemiologica per capire se sono riconducibili ai tre cluster o se per caso sono casi nuovi, quindi al di fuori dei tre cluster. La linea da seguire nel frattempo è a livello nazionale, non ci sono cambiamenti da qui a domenica? La linea da seguire oggi abbiamo fatto un coordinamento in videoconferenza con tutte le regioni e con il Presidente del Consiglio, sono state concordate dei comportamenti nazionali, quindi nessuna regione prenderà iniziative al di fuori del coordinamento nazionale, questo è un impegno che ci siamo preso tutti e anche noi, ovviamente, e il tentativo è quello appunto di cercare di bloccare questo virus, soprattutto con l'identificazione prima possibile dei contagiati e soprattutto con l'isolamento. Per quanto riguarda le scuole chiuse, dunque, per sapere... Fino a domenica le scuole sono chiuse, poi vediamo i prossimi giorni e prenderemo, prenderanno, non prenderemo, insomma i Presidenti prenderanno delle decisioni, penso al giorno di sabato. Al Baglio un'altra ipotetica settimana di chiusura? Adesso vediamo cosa succede, dipende da quello che succederà nei prossimi giorni, perché qui, come potete vedere, la situazione si cambia di giorno in giorno, se abbiamo la sensazione che l'epidemia l'abbiamo bloccata, potremmo anche non confermarla, oppure vedremo, insomma, diciamo che chi fa previsioni sbaglia. Per quello che riguarda invece la situazione di Vo, ieri ci sono stati un po' di disguidi perché i tamponi che sono arrivati arrivano un po' alla volta, questi 250 alla volta, come si prevede che vada avanti la situazione in quel comune che è isolato? Dobbiamo fare tutti i controlli che abbiamo deciso di fare, è ovvio che abbiamo fatto le richieste di tamponi, di mascherine, sono arrivate, per carità, mi pare che non ci siano stati grandi disguidi, i tamponi sono stati fatti, li stiamo verificando, abbiamo fatto finora 2.500 tamponi e quindi la situazione di monitoraggio della popolazione di Vo sta proseguendo senza problemi, poi insomma, se il tampone arriva mezz'ora dopo, vai a carità, dai, adesso non stiamo qua a polemizzare su queste vicende, la situazione è estremamente, pensate che siamo passati dalla normalità improvvisamente a gestire un'emergenza che erano sicuramente qualche decennio che non succedeva, quindi io penso che il sistema stia invece reagendo molto bene.